Voglio ringraziare e salutare la Fortitudo per una crescita lavorativa accetterò un ruolo diverso, in linea di massima sarà così e penso soprattutto che per crescere i giovani a un certo punto debbano uscire di casa, io sono relativamente giovane come post campo. Voglio ringraziare tutto il popolo della Fortitudo, la gente, tutti quanti per l'affetto dimostrato sia dentro il campo che fuori dal campo. Io sono andato e tornato più volte in tempi diversi, in momenti diversi anche per la Fortitudo e penso di aver avuto anche la fortuna di poterla vivere da dentro, guardarla anche un po' da lontano e dopo tanti anni veramente io ho una grandissima convinzione, cioè che sia un enorme privilegio far parte in qualunque veste della Fortitudo in generale, da giocatore o in qualsiasi altro ruolo perché tutta la gente crea qualcosa veramente di meraviglioso. Io ho ricevuto tanto perché, diciamo, essere riconosciuto dalla gente in un determinato ruolo è veramente motivo di orgoglio e per me è stata anche una grande motivazione a dare tutto quello che avevo sempre e in più sono cresciuto in mezzo al popolo fortitudo, quindi avevo ben chiaro cosa volesse e i valori a cui potesse essere regato.